Soprattutto quando si lavora con lenti anamorfiche può capitare che la minima distanza di fuoco offerta dall'obiettivo in uso risulti troppo lunga per l'inquadratura che si vuole ottenere. Lo strumento ideale per risolvere il problema è una lente diottrica, anche detta lente addizionale o filtro close-up. Su DP-Track come sempre potete trovare un articolo in cui si tratta questo argomento in maniera approfondita, il link è in descrizione. In estrema sintesi le lenti diottriche che si abitano alla filettatura frontale degli obiettivi come in qualsiasi filtro riducono sia la minima che la massima distanza di fuoco dell'obiettivo sul quale vengono montate. In campo fotografico le lenti addizionali sono utilizzate soprattutto come alternativa agli obiettivi macro. Di conseguenza il potere diottrico delle lenti addizionali che si trovano normalmente in commercio è di almeno più 1, un valore già troppo elevato se lo scopo è semplicemente ridurre la minima distanza di fuoco di un obiettivo da 1 metro 80 centimetri, magari per ottenere un primissimo piano. Allora anziché al mercato fotografico ci si può rivolgere a quello cinematografico e trovare con facilità aggiuntivi ottici anche da 0.2 diottrie e spendere senza difficoltà 5-600 euro al pezzo, anche perché in genere si tratta di vetri di grande diametro tra i 95 e i 138 millimetri. In alternativa si può cercare sul mercato dell'usato questa lente. Ha un diametro di 72 millimetri, una qualità più che accettabile e si trova senza problemi almeno al momento sotto i 30 euro. Tamron produceva questo aggiuntivo ottico per un suo 28-200 millimetri allo scopo di ridurne la minima distanza di fuoco da 2 metri a 1 metro. Si tratta quindi di una lente da 0.5 diottrie. Ora, quando si tratta di intraprendere vie traverse c'è sempre qualche complicazione. In questo caso l'ostacolo è che la lente Tamron è inserita in castro all'interno di un portafiltro in plastica privo di filettatura. Quindi per essere montata su un qualsiasi altro obiettivo con filettatura frontale, la lente deve essere rimossa dal suo supporto originale e inserita all'interno di un nuovo portafiltro dotato di filettatura da 72 millimetri. L'operazione non è complessa. La rimozione della lente dal portafiltro originale, che verrà inevitabilmente distrutto nel processo, richiede giusto una lama ben affilata e qualche minuto di pazienza. Purtroppo non sono in grado di mostrarvi questo processo perché l'ho affrontato ormai anni fa e non ho pensato di documentarlo. Ma è una procedura veramente banale, si tratta solo di tagliar via le alette del portafiltri che bloccano in sede la lente facendo attenzione a non graffiarla. Montare poi la lente sul nuovo portafiltro è ancora più semplice. Questo strumento, un lens spanner wrench, una chiave per obiettivi, è indubbiamente d'aiuto ma tutt'altro che indispensabile. Dove si trova un portafiltro con filettatura da 72 millimetri? Il mercato dell'usato abbonda di filtri e montature di ottima qualità dotate di filettatura con questo passo che possono essere facilmente cannibalizzati. L'importante è fare attenzione che il filtro scelto sia racchiuso in un portafiltri che presenti queste due indentature e sia quindi facilmente separabile in due parti. Vi consiglio di evitare i filtri più economici perché quasi sempre hanno un anello interno in plastica che non si avvita in maniera sicura e quelli più sottili, gli slim e gli ultra slim, perché raramente riescono ad ospitare lo spessore di una lente diottrica. Io ho scelto un OIA Pro ND perché questi filtri hanno una montatura interamente in alluminio, di dimensioni generose, sicura e semplicissima sia da assemblare che disassemblare. In genere comunque qualsiasi vecchio filtro russo offre le stesse caratteristiche a una frazione del prezzo. Negli anni ho testato l'aggiuntivo diottrico Tamron con diversi obiettivi nelle situazioni più disparate, senza notare evidenti perdite di qualità o derive cromatiche. La resistenza a riflessi interni dell'ottica sulla quale la lente viene montata ovviamente si riduce, ma questo è inevitabile quando si aggiunge una superficie aria vetro allo schema ottico di un obiettivo. In conclusione, per quanto mi riguarda, questa lente addizionale rappresenta un validissimo strumento per ridurre la minima distanza di fuoco di qualsiasi obiettivo con filettatura frontale entro i 72 mm.